ciao ragazzi bentornati su gamebusters siamo qui su xbox one con vampire o vampire chissà e niente ci siamo appena svegliati dal letto dove fai vedere il letto agli amici da casa abbiamo avuto un attacco di emorroidi e abbiamo lasciato il letto sporco di sangue in realtà ci siamo appena sparati un proiettile ci siamo resi conto che siamo mezzi immortali e nulla abbiamo messo un po' di abilità varie con gli umani che abbiamo ucciso c'era da un bel po di esperienza e nulla ma adesso andiamo a vedere cosa possiamo fare per riuscire a volte alla porta se qualcuno stia percuotendo la porta però c'era quella porta che non abbiamo ancora ah ecco vedi stanno cercando di entrare da dove abbiamo bloccato buon pietro i miei che lì mi penso da qua questo punto sembrano più colpi di karate che facciamo ah bello così è bello e buono ma io c'è la testa bene cosa vorrà dire che dobbiamo è chiusa a chiave oddio Robby mi sa che stanno sfumando tutto cos'è? paletto usato un paletto per me secondarie possono essere usate premendo y ah questo sarebbe vedi uno degli effetti speciali del consumo di energia te l'ha messo a posto della pistola adesso perché tanto ne avevano proiettili consumano energia si che energia consumano penso quella che ci serve anche per scattare per quindi pure la pistola consuma energia no penso questa qui tra messa come arma secondaria il dito che devi premere ti stanchi il dito e Robby pure la pistola in arma secondaria eh fai proprio per bus il bambino sovac sovac devo riuscire a costa l'esterno oltre a lì c'è quello che... premia Y per usare il tuo paletto e infliggere un danno da stordimento il nemico stordito può essere... ah ok bene quindi possiamo anche premere energia premia per mordere il nemico stordito mordere un nemico fornisce sangue per usare le tue abilità e ricaricare la tua salita vabbè ah bello, bello, bello bello ora che hai del sangue per scatenare un'abilità vampiresca hai puntato? si ah la lancia, hai lanciato la lancia attenzione a fuoco eh stordisci l'acquisto così ci riprendiamo il sangue vabbè questo non reagisce credo che schiacciando l'analogico cambi l'obiettivo giusto? oppure semplicemente ruotando con... come un figlio apprendendo i limiti del mio corpo stordisci e mordi, stordisci e mordi ma questo c'è ora pure una corazza eh ma perchè non lo trafiggi con... con quell'abilità? sta lontano ma lo puoi succhiare solo una volta a stare qua bello 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 i miei reflexi sono bello bello le robbie a sinistra c'era anche cosa che può ma ecco ma questa è una tirapino nell'abilità che puoi usare sempre aspetta spesso che quando te lo segnala ok ma allora scusate la russa l'energia russa è per usare l'abilità no l'energia russa e l'energia il sangue pensi ti serve mi sa per tipo per lanciare quella con l'abilità probabilmente sì quella marrone il vigore non escono via oggetti da queste cose è la verde l'energia che però abbiamo subito un danno permanente si vede per il fuoco e come facciamo? non lo so penso ciò lo diranno un po ponte di south park sat walk gestato dal quartiere stabile vedo in poco in faccia al muro ci sono delle immagini vedi se vuoi niente no we want you è una sorta di zio semma all'inglese beh sì ma per ora sembra abbastanza lineare il sì il percorso il tore e il tuo paese hanno bisogno di te non è un ideale esercito britannico ma parla della guerra mondiale qua ragazzi probabilmente diceva 1919 18 allora sì prima guerra mondiale vorrei mi si è il progetto mia buona sista se solo io avevo controllo la mia necessità per il sangue Mary qualcuno avrebbe pagato forse per quello che si succede per quello che si succede anche un topo addirittura ha chiarito d'energia che non sbaglio la rossa o barra rossa anche se ricarica la c'è un altro dopo che si ricarica la solo russa ricarica andiamo a destra o a sinistra questo è blu sono entrambe bloccate queste porte ma stanno quest'anno sì pure questa è bloccata vedi allora l'abbiamo andato di qua no no ma è bloccato dice una volta è bloccato ed slot all right da quest'altra ed slot ma penso che te lo fa vedere già col fatto rosso che si vabbè per far capire i nostri amici da casa che ah ecco bello bello si addirittura questo non è un bel momento eh ma questo caricamento fuori contesto proprio buffering vabbè è sopportabile dai se è così sì qui dovrebbe esserci un'altra porta chiusa le tue spalle controlla un po se c'è qualcosa in questo ambiente al sinistra 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 se c'è qualcosa di qua e no bene se l'ho premuto b scatta ah sì però consuma energia invece se lo premi una volta fa quella quella cosa di ombra così a questa la sicura come energia però è si potrebbe correre con sull'energia vabbè non se abbiamo che ne fai un altro perché abbiamo il massimo vabbè abbiamo il massimo e gli piace gli piace ma io voglio mangiare surici ma che buono cosa london deve dire a me un po' qua che è soldini 10 scellini su tutte poste chiuse sono giusto sulla grafica non male mi piace molto anche la colonna sonora la musica di sottofondo è bellissima no graficamente non sembra cos'è quello che è qui? ah ovest sud ok si trovano i soldi proprio così porto di lima house c'è stato del quartiere stabile quindi non ci sono disordini probabilmente chissà cazzino c'è stato del quartiere di london Attiva e disattiva i tuoi sensi bambileschi con L Vedi un po' con l'aria, è fuoco Semplicemente fuoco Devo fare una controllatina qui se c'è qualcosa di utile Nulla di utile Si apre questa cosa, vedi un po' C'è un baule Frammento di alluminio e grassi lubrificanti Se vado in l'acqua secondo voi non ti fa andare Non vado Vabbè quindi è un binarione praticamente Qua c'erano le tracce di sangue Vogliamo andare di qua direttamente Questa è un baule C'è un altro baule lì Scellinica pala Avrei un po' con i sensi bambileschi E' un po' con i sensi bambileschi Non si può fare un po' con il cava S'erano le tracce di sangue Sì, è un po' con il calavero Sì, è un po' con il calavero Sì, è un po' con il calavero Ma l'abbiamo capito Questa è la chiave Non ce l'ha Se sta barca si può salire Le sfonde queste cose Con il coltello Si sfonda non so Non so Non so Sì, è un po' con la cosa Sì, è un po' con il calavero 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 Con questo coso Può salirci anche tramite la scala Mi sa, eh Sì, sì Ok, vabbè Dobbiamo Tenderei a non consumare Troppa Troppa vigore Che è? Ah, i sensi da vampiro? Mh Ah, qua a destra che è? Un nuovo nascondiglio Controllo la tua mappa per trovarlo Britannici, vabbè La mappa come si... Prova a select No, start Mmm Vabbè, voglio è quasi un open world alla fine Cioè Vabbè, noi stavamo qua, giusto? Sì Beh, Robby, comunque ti basta seguire un pochettino la bussola per capire dove dovrebbe andare Quasi puoi entrare Entriamo? Vai Che è il nuovo nascondiglio? No No Entra, va It's locked all right Fa ancora Bastardata Trolla da Non sono voi, però mi sembra poco vario lo scenario, no Eh, vabbè, è un quartiere Quattiere Quattiere Vai salire là sopra Non ci fa salire Vedi un po' le tracce Oh ma dovremmo andare verso con la sconosciuta che è uscita prima Sono un attimo Ah, questo sarà un nascondiglio Nascondiglio Ok Un po' a soli Adesso c'è qualcosa di utile, non sono nascondiglio, sì Parte per impugnatura normale, parte per un detto, questi saranno tutte modifiche Quello qui c'è qualcosa Fornisci tutto Sarà qualche Sarà tipo Ah, poi possiamo Su un banco di lavoro Può creare farmaci Per curare cittadini malati Sieri per potenziarti Violenti per gli armi e migliore pressione Per continuare Vabbè qua ti dice quello che serve per creare Non abbiamo nulla di nulla Vedi un po' RT Armi Migliore Ah, vedi parte per impugnatura normale, la mira di piombo Abbiamo due, ce ne servono tre, non abbiamo nessuno Riciclabile Ah, vedi? L'orologio, ricicliamo e abbiamo due 3 viti, due molle Grasso lubrificante Una bottiglia di alcol Che facciamo? Ricicliamo E sì, penso che ci servono So se gli oggetti è possibile anche venderli Ma probabilmente ci sarà una sorta di Come dire, una sorta di mercanti Perché se no sti scellini Eh sì, sicuramente c'è Gli oggetti li possiamo anche vendere Oltre che riciclarli Ma roba è roba Hai capito? Questo quartiere ci sono questi cittadini da scoprire Tra l'altro ognuno c'ha la sua Salute No, c'ha proprio la sua anche immagine O sono dei cittadini speciali O sono Vabbè queste si devono studiare tutte queste cose Pure qua Vabbè non perdiamo tempo Ah ecco vedi At last A little life Good evening sir I wonder if I could ask for your help Wow, you look like you need a drink Yes I apologize for my outfit It's been... It's been a long night Being there, seen that Don't worry, things can only get worse Bene. Il Mastino delle Fogne. E' molto filosofico questo da me. Vedete che abbiamo raccolto degli indizi su questo? Sì. Allora ti dà la stanchezza addirittura. Vedi un po' dal minuti prima se abbiamo dato un volto, la qualità del sangue è una mezz'alberta. Lo possiamo curare con farmaco della stanchezza. Che cacchio è questa cosa? Cioè la qualità del sangue significa che se lo mordi ti dà 350 punti esperienza. Forse sì. Però la qualità del sangue mi si vede gialla secondo me. Quindi non è proprio granché. Probabilmente se lo curi ti dà qualcosa del sangue. Probabilmente sì. Probabilmente poi ti darà più punti esperienza. Più punti esperienza, sì. Capito? Chiunque lo sia. Il giocatore ha recentemente entrato questa barra. Magari alcuni dei locali lo vengono. Noi, signor. Sei ok? Cosa posso aiutarti? Non lo so. Magari puoi solo parlare con me. Magari puoi preferire parlare con Tom, allora. E' più aggiorabile parlare con gli strani. Io solo voglio parlare. Non volevo scoperti. Non ho scoperto, signor. È solo che abbiamo altri clienti che prendere il sangue. Io voglio vedere uno cliente. Oh. Oh, sì. Sì, ovviamente. Cioè... Dobbiamo controllare loro. Ma poi vedono uno tutto sporco di sangue. Una città piena di vampiri, poi tra l'altro. Vabbè. Molto morto, signor. Sì. 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 È un pub, no? Sì. È un pub, no? Sì. È un pub, no? Sì. Sì. È un pub, no? Sì. 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 Io penso che più domande gli fai più cose si scordano. Ma perché torri dietro? Sì. È un pub, no? Sì. È un pub, no? Sì. È un pub, no? Sì. Sì. Mi sembra anche giusto, anche io non uscirei Questa te la da per esempio per i qualità del sangue ti da 1500 punti esperienze se te la mangi Se te la mangi Ma teoricamente te la potresti già mangiare È davanti agli altri, non credo Si fa solo parlare Sì Se la dobbiamo seguire Parlamo con Tommy Hai visto? Posso te prendere? No, grazie Non sono... non sono freddo Oh, prendi una piscina e prendi un pocino! Questo sarà un altro lungo noc Gli sei? Gli sei? Gli sei? Tu sei a mia bar, signor. La turquoise turtola L'ultimo rayo di luce in questa strada di città Non ti preoccupi? Non ti preoccupi di cosa? Tutta la buona cosa succede sulle strada di città E io non vado a fuori Quindi sei aperto tutta la notte? Sì Ho pensato che la gente potrebbe necessita un posto di restare in questi tempi oscuri Come dorme di giorno? Lui? Potrebbe essere un vampiro Dice Probabile Sì 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 Un po' ripetitivo Eh si dicono sempre le stesse cose comunque Morisce il cane delle forme Morisce il cane delle forme Un mastino delle forme Chiediamo che sta cercando qualcuno C'è qualcuno che potrebbe passato qui in recentemente C'è qualcuno che potrebbe passato qui in recentemente C'è qualcuno che potrebbe aiutare Se sta subito nella domina Ho pensato che sia strano Cioè aveva unoe C'è così Cioè quello che ancora sta qui? Oh, sì Ha pagato la parte della settimana C'è quanto è stato qui? Ci ha provato un po' da tremolo Ma non diceva che arrivano C'è chi è questo chico Cosa è che è? Cosa è in avanti? Il risultato Si è benissimo Tristello Molto polizia, professore o qualcosa di fanciato come questo, sempre scrivendo, leggendo noti Vabbè, è elegante, comunque ha detto Ho bisogno di incontrare questo uomo, ho domande Ho scoperto le stelle e toccato la prima porta Ho sentito aprire la finestra, quindi credo che è ancora awake E, eh, no, 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 no Questo è un istituzione rispettabile Nessuna ragazza Quindi forse su queste abbiamo qualche informazione Abbiamo informazioni sulla cerca sociale Sì Insomma sono le due Eh sì, cerchia sociale Che è una delle informazioni Però tutti gli indizi sono comunque bloccati Probabilmente se ne uccidi uno Probabilmente l'altro Sì, sì, ma su un indizio che ti dice Now la spiegazione da un numero di indizi chissà come si raccoglono questi indizi io penso vogliamo andare un attimo a dormire? no dobbiamo andare sopra no ancora no vabbè qui non c'è più nessuno vedi un po' queste tace di sangue le tace di sangue portano a piano di sopra cioè no veramente si fermano qua e quella stava pulendo la signora vabbè ciò forse vabbè ponga más allì